ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sponsorizzazione oggi ci troviamo nel fiumicciattolo che vi ho fatto vedere l'altra volta che però è secco nonostante è un canale di scolo quindi si può trovare solo tritoni salamandre rane o nulla di che passate nel canale di vittorio passate per un'iscrizione mi raccomando aiutiamolo arrivare a 700 iscritti dai tutti insieme tanto lui vi ricambia una bravissima persona fa dei bellissimi video e live passate da lui se vi fa piacere oggi facciamo una passeggiata qui nel bosco una giornata molto calda vi ricordo di iscrivervi al canale di magnus 0 6 in 8 porta fortnite il suo codice creatore è kcl magnus 0 6 1 8 tra qualche giorno tornerò a casa e quindi sarò di nuovo attivo con brawl star con clash of clans e clash royale fatemi sapere in un commento se vi piacciono questi tipo di video vi giriamo per la natura fatemelo sapere in un commento vi ricordo di passare nel canale di davide cortak di iscrivervi al canale attivare la campanella e guardare ogni tanto le sue live che sono davvero utili per crescere e divertire vi informo che a breve riprenderanno gli unboxing quindi aziende fatevi avanti che io devo spacchettare a breve ritorneranno anche i tour dei laghetti e se questo video arriva a 150 like butto la gopro nel laghetti riguardo invece il clash of clans sono molto contento del cocapo la tega di come sta svolgendo le one iscrivetevi al canale di luis gamer 04 sono sicuro che vi ricambia aiutiamolo arrivare a 150 iscritti anche questo episodio finisce qui io vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanella mettere mi piace al video e noi ci vediamo con un prossimo ciao a tutti ciao a tutti